Koboldi, benvenuti o bentornati nella Tana. Questa volta siamo di nuovo qui per proseguire nella nostra guida alle classi e tratteremo proprio del ladro, del rogue. E che dire per iniziare, la trovo una classe veramente molto affascinante che dà svariate possibilità di role, specie se si riesce ad uscire dal tipico stereotipo del ladro kleptomane. Ha nella sua faretra veramente molte frecce, per essere un roleplay di qualità. Ma tralasciato questo aspetto, andiamo a parlare di quello che interessa questa rubrica, ovvero la classe in sé, le sue meccaniche, le sue abilità e la sua valutazione nella seconda parte di questo video. Quindi iniziamo dicendo che il ladro ha un solido D8 come dado vita. Dico solido perché con lo stile di gioco che ha il ladro, ovvero molto hidden run, ci si potrebbe anche tranquillamente aspettare un dado vita più basso, anche proprio il più scarso, il D6 in quinta edizione. Però è stato concepito come game design con un dado vita un po' più alto, probabilmente per sopportare qualche colpo inatteso quando si arriva tra le prime linee per sferare il proprio attacco furtivo magari. Quindi secondo me per il playstyle che ha il tipico rogue, il D8 è un dado più che sufficiente per sostenere le sue azioni. Le competenze che dispone il ladro, partendo dalle armature, prevedono le armature leggere. Molto buone per avere un minimo di difesa, ma non dover subire drawback negativi tipici delle armature più pesanti che vanno ad intralciare l'agilità del personaggio. Quindi va bene così. Le armi. Il ladro può usare in competenza le armi semplici, le spade lunghe, le spade corte e gli stocchi. Nonché le balestre a mano. Il ladro inizia anche con la competenza con gli attrezzi da scasso, giustamente, e avrà dei tiri salvezza su intelletto e destrezza. Destrezza è un ottimo tiro salvezza perché ci sono molti effetti, non solo magici, che ci vanno a bersagliare proprio su questa statistica. Ottimo avere questo tiro salvezza. Intelletto non è performante quanto avere un tiro salvezza su saggezza, per intenderci, che quello è veramente molto buono da avere. e vedremo dopo un piccolo twist. Però intelletto è comunque abbastanza godibile come tiro salvezza perché ci sono alcuni effetti di alcuni incantesimi che sono veramente stronzi su intelletto. Quindi buono avere questa risorsa. Il ladro a livello 1, se non è un multiclass, inizierà tra l'altro anche con 4 abilità in competenza. Cosa che ci porta subito alla prima vera e propria abilità del ladro che si chiama maestria. Ovvero, a livello 1, sceglieremo una di queste abilità che abbiamo messo in competenza e le potremo dare expertise, appunto maestria. Vuol dire che raddoppiamo il suo bonus alla competenza quando siamo chiamati a fare uno skill check, una prova d'abilità, su quella abilità specifica. Per esempio, furtività. Se scegliete di dare maestria a furtività, quando tirerete, raddoppierete la competenza che avete in furtività. A livello 6 addirittura potremo disporre di una seconda abilità con maestria. Sempre a livello 1 abbiamo l'abilità più iconica per quanto riguarda i rogue, ovvero lo sneak attack, l'attacco furtivo. È un'abilità che ci permette di aumentare il nostro danno qualora ci siano alcuni requisiti. Quello, diciamo, primario che ignora altri requisiti, se è presente, è l'avere il vantaggio. Qualora non dovessimo avere vantaggio, deve esserci affiancato al nemico che andiamo a targettare un alleato che non sia inabile a un metro e mezzo appunto dal nemico bersaglio. Sempre che non ci sia la condizione di svantaggio sul tiro verso quest'ultimo. L'attacco furtivo inizia con 1 di 6 di danno aggiuntivo, ma arriva a livello 19, che è veramente uno sproposito, 10 di 6 e l'attacco furtivo può critare e i dadi si raddoppiano, quindi. Fate dunque voi un crit di un ladro a livello 19, solo di attacco furtivo fa 20 di 6 di danno. Sempre a livello 1 abbiamo anche il gergo ladresco, che è una moltitudine, diciamo, di suoni, simboli, anche gesti che vanno a comporre una sorta di linguaggio di strada. È un modo che hanno per comunicare i vari criminali, le varie canaglie che si possono trovare appunto per strada. Tra l'altro, in alcuni luoghi della città, il rogue potrebbe notare, grazie a questa sua capacità, alcuni segnali, alcuni simboli che possono indicare magari dei pericoli o luoghi sicuri dove poter stare. Una cosa che di solito ignorano alcuni dungeon master, ma è un bel appiglio, un bel gancio da poter usare nelle proprie campagne. A livello 2 iniziamo a vedere le prime cose che ci fanno pensare alla filosofia item run appunto del personaggio, perché con azione scaltra potremo beneficiare dell'azione bonus per le seguenti azioni. Scatto, nascondersi e disimpegnare. Disingaggio, disimpegno ci serve per allontanarci da una creatura che stiamo affrontando ravvicinatamente senza causare attacchi d'opportunità, quindi può essere effettivamente utile per riposizionarci. Nasconderci ci può essere molto prezioso per prendere vantaggio e sempre per riposizionarsi l'azione di corsa fa la sua cosa. A livello 3 sblocchiamo la sottoclasse, ma in questo contesto non ci interessa particolarmente. L'incremento dei punteggi alle caratteristiche è peculiare, perché è unico. È una delle due classi che fa eccezione per il normale miglioramento delle statistiche insieme al guerriero, ma la progressione del rogue, come quella del guerriero, è diversa. Infatti il ladro può sbloccare i propri asi a livello 4, 8, 10, 12, 16 e 19. A livello 5 abbiamo schivata prodigiosa. Quando un attacco che siamo in grado di vedere ci colpisce, possiamo usare la nostra reazione per dimezzare quel danno. È una riduzione del danno molto interessante e anche qui ci serve per evitare di prenderci in pieno una sberla che ci arriva in maniera inaspettata. Utile. Utile considerando che magari da rogue non andiamo a investire tanto su costituzione. Illusione a livello 7 invece ci permette anche qui di avere qualcosa di difensivo in più. Infatti quando andiamo a fare un tiro salvezza su destrezza, se lo superiamo annulliamo completamente il danno che andremo a ricevere. Invece se lo falliamo subiremo solamente metà del danno che normalmente ci avrebbe investito. Dote affidabile a livello 11 invece più sull'utilità come abilità. Infatti quando andiamo a fare una prova d'abilità sulla quale abbiamo competenza, non possiamo fare meno di 10. Questo perché se lanciamo il dado e otteniamo per esempio un 1, 2, 3 fino a 9, il risultato rollato lo conteremo come 10. Quindi 9 inferiore si trasforma in 10, al quale poi aggiungiamo tutti i vari modificatori. A livello 14, secondo me anche questo rientra nell'utilità perché l'abilità si chiama percezione cieca. Ci dice che se siamo in grado di udirla, una creatura nel raggio di 10 feet 3 metri da noi sarà considerata non come visibile ma come percepita. Infatti sapremo la sua posizione per certo. Piccola specifica, tutte le creature entro 3 metri da noi che sono invisibili o nascoste. A livello 15 otteniamo mente sfuggente. Otteniamo un ottimo tiro salvezza in competenza perché mettiamo appunto competenza su il tiro salvezza su saggezza che ci rende molto più difficili da controllare. Tutti i grandi controlli mentali vengono fatti con tiro salvezza su saggezza. Capirete da voi che avere competenza su questo tiro salvezza è un'arma molto potente. Poter aggiungere la nostra competenza a quel tiro salvezza lì è oro, specialmente a certi livelli. Livello 18, abilità inafferrabile. Con questa abilità, raggiunto questo livello, nessun nemico potrà tentare di colpirci a vantaggio. Quindi al massimo tiro secco. E considerando di nuovo che, specialmente ad alti livelli, alcuni mostri potrebbero avere facilità nell'avere vantaggio verso di noi, se ci capita che dopo una nostra manovra mossa a tentare l'attacco furtivo alle spalle del boss di turno, incautamente ci siamo presi una tega sulle gengive perché abbiamo calcolato mare l'economia delle azioni, i movimenti, eccetera, questa abilità ci può tornare veramente utile insieme alla schivata. Invece a livello 20 abbiamo la capstone della classe che si chiama colpo fortunato. Essenzialmente dice che quando manchiamo un colpo lo possiamo contare come colpito invece. Spiegandomi meglio, se manchiamo il colpo su una creatura, possiamo invece decidere di colpirla automaticamente. Oppure ha un'altra funzionalità questa abilità perché permette, qualora andiamo a fare un ability check o una prova caratteristica, di, qualora lo volessimo, cambiare il risultato del lancio del dado con un netto 20. Vi ricordo, sulle ability check non c'è il critico, né in negativo né in positivo. Se avete il 20 non vuol dire che avete successo automatico. Però, considerando che è il miglior roll possibile e magari avete anche un buon modificatore arrivati a livello 20, è molto probabile che riuscite a passare determinata prova. Questo privilegio non si può riutilizzare fino a riposo breve o lungo. Ma, detto questo, siamo arrivati al punto in cui torna lei, torna la protagonista di questa rubrica. La nostra lavagnetta. Devo dire che questa volta non ci sono state grosse sorprese tranne una, ma credo di non essermi spesso perfettamente. In questo senso la vedremo tra poco. Iniziamo a vedere un po' il giochino che ormai dovreste avere imparato a conoscere. Ci sono sei categorie per la valutazione di questa classe. Sono attacco in mischia, attacco a distanza, difesa, versatilità, controllo sul nemico, fare debuff e roba del genere, controllare la sua velocità e supporto per il party che è buff, cure, cercare di evitare attacchi agli altri del gruppo, questo genere di cose. Partiamo dall'attacco in mischia. I sondaggi danno un generoso 4,5 secondo me perché il mio voto personalmente è 4. Questo per il fatto che sì, attacco furtivo è veramente tanta roba e secondo me è anche facilmente oggetto di multiclasse. Il rogue può essere veramente una buona classe per il multiclasse, ma in questo caso non ci interessa particolarmente. Credo tuttavia che l'attacco furtivo possa dare il meglio come abilità dalla distanza. E adesso vedremo anche perché. Do questo voto non solo perché l'abilità attacco furtivo secondo me rende meglio dalla distanza, ma anche per il fatto che non abbiamo fighting style per potenziare il nostro attacco base. Non abbiamo neanche degli incantesimi che ci possono migliorare questo aspetto, quindi è sì un buon attaccante in mischia che fa del hit and run alla sua filosofia d'attacco, ma diciamo che non è quello che sta tranquillamente in prima linea come farebbe un barbaro, un paladino, un guerriero, quindi per tutte queste ragioni non mi sento di dargli il 4,5 o il 5. Cosa diversa, vale proprio l'attacco a distanza come dicevo. Allora, l'attacco a distanza per i sondaggi è un 4,1, ma secondo me è un pochino basso. Vi spiego perché. Per me è un 4,5 o addirittura un 5. Questa cosa magari la sanno quelli che hanno visto i video precedenti perché ho tessuto un po' le lodi del rogue su questo aspetto. Perché? Perché prendendo l'azione di nascondersi può ottenere vantaggio facilmente, fa dei bei tiri, fa uno sproposito di danni con lo sneak attack, quindi è già veramente solido così di base. Ma se vogliamo considerare addirittura la regola opzionale che sto riportando qui adesso, che in italiano dovrebbe tradursi in mira pronta, secondo me andiamo al 5 addirittura, perché quella regola opzionale introdotta in tascia ci permette di sacrificare tutto il nostro movimento per prendere la mira sul bersaglio e quindi disporre automaticamente di vantaggio. Ed è una risorsa veramente forte da tiratori. Per le build da tiratori a questo punto il rogue diventa veramente forte. Si potrebbero fare diverse build con almeno quei tre livelli da rogue che servono per prendere quell'abilità per inserirli nella build. Ma considerando solo la classe, per me con quell'abilità lì, dato che prende molto facilmente vantaggio ed è un tiratore e non ha bisogno di muoversi chissà quanto, per me cinque. Non ha bisogno di muoversi chissà quanto considerando che abbia ottenuto un buon posizionamento. Comunque il rogue, dato azione scaltra, potrebbe riposizionarsi durante il combattimento e puoi continuare a blastare il nemico. Quindi io azzardo, azzardo un 5. Difesa, difesa per i sondaggi, siamo a un 3,5. Per me invece un 3. C'è da dire che il potenziale difensivo il rogue comunque ce l'ha dalla schivata all'illusione per i tiri salvezza su destrezza e poi otteniamo anche il tiro salvezza su saggezza. Quindi non è male, è più che sufficiente. Però il D8 e il suo playstyle non lo vede come sicuramente non è un tank. Non è neanche un frontliner in una build tipica. Non può mettere grandi armature, non può mettere gli scudi. Quindi questa è la mia opinione. Un 3 che è comunque più che sufficiente. Versatilità. Qui io e i sondaggi non andiamo troppo distanti. Per i sondaggi 3,9 per me è 3,5. È effettivamente un ruolo con diverse potenzialità. Puoi fare DPS ravvicinato, puoi fare DPS da lontano, infliggere danni, damage per second. E soprattutto puoi fare la skill monkey, puoi essere un personaggio mirato alla socialità, all'utilità. Puoi fare diverse cose effettivamente con quel ruolo. Puoi essere la faccia del party quando sei in città. Quasi a livello del bardo. Se dovessi fare un ladro atipico che builda molto carisma, puoi essere più efficace di un bardo, secondo me. Il bardo con alto carisma è più conveniente perché c'è lo spellcasting, eccetera. Però il ladro in contesti urbani funziona a voglia. Quindi secondo me questo si traduce in un 3,5. Non è versatile quanto un bardo, perché ricopre veramente tanti ruoli. Però 3,5 dai, mi sembra corretto. Il controllo, la capacità di debuffare o ostacolare i nemici. 2,7 per i sondaggi, 2 secondo me. Ritengo che il 2,7 sia un pochino altino considerando che il roga non ha modo di controllare i nemici. Sono forse generoso con il 2 perché almeno il fighter, il barbaro, il paladino hanno i controlli su forza se vogliono. Se questi buildano forza. Che almeno sono limitativi della velocità del nemico. Li puoi mandare a zero di velocità per quel turno, li puoi grabbare e cose del genere. È qualcosa. Il ladro non è neanche quello perché tipicamente, a meno che non ci siano cose strane in mezzo, tu il ladro l'hai buildato destrezza. Quindi neanche quello. Io gli do un 2 per la possibilità di ricreare dei veleni. La classe in sé non ha attualmente un'abilità che gli dà questo, la capacità di utilizzare i veleni. Ci stanno lavorando per 1D&D. Ma questo è un altro paio di maniche. Considerando il fatto che comunque può rientrare nella tua sfera di competenza a fare l'avvelenatore, ti concedo questo punticino in più. Però di certo non vai a competere neanche con un fighter che fa dei controlli su forza. Sei un po' sotto quello, secondo me. Supporto, invece. C'è quasi un 3 per i sondaggi e io non me ne capacito. Cioè, ragazzi, non ha fighting style con cui rompere le balle al nemico. Non può usare protection, per intenderci. Non ha niente per curare. L'unica cosa che può fare il ladro di supportivo è in caso prendere la sottoclasse Mastermind e con l'azione bonus dà l'azione di Help agli altri. Ma non è supportivo. A meno che non lo vai a buildare in una maniera super specifica. Con la sottoclasse. E senza quella sottoclasse non ottiene niente di supportivo. Ma dando quel minimo onore alla possibilità di quella sottoclasse anche se noi stiamo valutando solo la classe qui Via! Voglio esagerare. 1,5 e sono molto generoso. Per un totale di 3,6 per i sondaggi che personalmente trovo molto alto considerate che 3,6 c'è il paladino, c'è il ranger ci sono i voti più alti fino adesso. Per me è un un po' più ridotto 3,1 Eppure vi dico che secondo me il ladro è una classe molto intrigante molto forte specialmente se usata in hit and run lì veramente potete aprire i buchi e siete molto scomodi per tutto quello che riguarda intrufolarsi così quello è proprio il vostro lavoro insomma considerando questa valutazione io ci sto col 3,1 ma forse al tavolo risulta addirittura più performante di così in realtà. Ma detto questo ringraziamo la nostra lavagnetta che come al solito fa il suo lavoro e alla prossima Siete d'accordo con me? Fatemelo sapere nei commenti inoltre vi ricordo di lasciare un like se volete supportare il canale nel modo più diretto possibile e cos'altro? Abbiamo fatto tutta la parte diciamo dei picchiatori adesso piano piano ci dirigiamo verso gli incantatori puri e vedremo vedremo un po' come si colloqueranno questi ultimi la nostra graduatoria ma detto questo direi che possiamo salutarci e ci vediamo nel prossimo video grazie per aver visto fin qui e rimanete nel dungeon ciao ciao